Siamo nella nuova e bellissima biblioteca di Bellagio, queste che una volta erano le serre, erano le serre di quello che era l'allora hotel, il parco dell'hotel della Grande Bretagna. Assessore, ma è questo un fiorellochiello per la cultura bellagina, un lavoro non da poco sistemarle, vero? Assolutamente, allora devo dire che come amministrazione e in qualità di Assessore alla Cultura sono orgogliosissima di questo lavoro, veramente un fiorellochiello per la cultura locale, ma non solo quella bellagina, io penso che debba servire un ente di questo tipo, debba servire anche un'utenza a vasto bacino, magari anche le persone che arrivano da Oliveto Lario, da Lezzano, dai paesi limitrofi e oltre, e devo dire che appunto è stato uno sforzo notevole da parte naturalmente del Comune, rimettere in piedi questa struttura, perché diciamo c'è una bella differenza tra quello che era le vecchie serre abbandonate da anni, diciamo questo restauro che se vogliamo è anche conservativo, ma naturalmente con una miglioria enorme, anche per il contesto dove è posto in questo bellissimo parco cittadino, che è sempre più bello, grazie anche all'Associazione degli Amici del Parco. Il contesto è veramente bello, perché da queste vetrate le serre sono appunto caratterizzate da vetrate che sono state mantenute ovviamente con tecnologie moderne, doppie vetri eccetera. Ma qui il piacere della lettura, della conoscenza è proprio ampio. Patrimonio librario, cosa consiste? Ci sono anche dei fondi storici? Assolutamente sì, allora qui dietro ne abbiamo anche un saggio, c'è una sezione più etnografica, una sezione anche dedicata alla Duca Gallarati Scotti, a cui è dedicata la biblioteca, è che un'altra cosa di cui siamo molto orgogliosi è questa dedicazione a uno dei personaggi, diciamo, del Novecento più significativi per quanto riguarda la storia, la diplomazia, la cultura, un grande letterato, diciamo una personalità a 360 gradi per quanto riguarda la cultura. È stato anche un lasciatore. Esatto, ricoprì anche incarichi importanti. Importantissimi, sì. Parliamo un attimo dell'utenza. L'utenza com'è? Sottivisa fra le varie fasce d'età ovviamente. Allora, ci sarà naturalmente, c'era anche prima nella vecchia biblioteca un'utenza di lettori, diciamo, di un po' di tutte le età, però diciamo, quello che noi vorremmo, il target che noi vorremmo raggiungere è quello di creare un'utenza, un'attrattiva per i giovani. Un po' di tutte le età, nel senso che si va dal, mi sembra, credo che mi possano confermare che siano addirittura arrivate le scuole elementari a conoscere, a visitare la biblioteca. Quindi si va dai bambini, perché poi stiamo raccogliendo anche un fondo dedicato ai bimbi, ai bambini elementari, alle medie, alle medie superiori e magari, perché no, anche gli studenti universitari. Io penso che si debba anche fare una progettualità sull'attrazione dei giovani, magari anche con qualche micro progetto che va anche un po' al di là dello studio e della lettura, ma che è un progetto di aggregazione culturale per i giovani. Deve essere anche un luogo d'incontro e anche per le persone un po' meno giovani. La mia idea, non so se potrà essere realizzata, è anche un po' la lettura dei quotidiani, anche per le persone meno giovani che magari riescono ad incontrare le altre generazioni, quelle che più giovani possa esserci questo scambio, anche culturale, sociale. Quindi la biblioteca intesa non solo come luogo di lettura, naturalmente che è lo scopo primario di studio, ma anche di incontro. È una sorta di laboratorio culturale. Un po' quello che erano le vecchie biblioteche. Assessore, una curiosità. La vecchia biblioteca, se ricordo bene, ha un patrimonio anche di mobili antichi, giusto? Esattamente. La vecchia biblioteca permane come luogo di sede di conferenze, di presentazioni libri, sede anche di matrimoni civili, che ne abbiamo tantissimi qui, veramente tanto richiesti sia dall'utenza italiana che dall'utenza straniera. Naturalmente è un luogo bellissimo dove magari in futuro potremmo anche pensare di fare una sorta anche di piccola cineteca. Adesso io sogno, naturalmente, però siccome c'è già un maxi schermo, eccetera, magari potenziare un po' la tecnologia e farne anche un luogo per la visione di vecchie pellicole, una sorta di piccolo cineforum. Quindi quella permane sicuramente. Benissimo, Assessore, la ringraziamo e, che dire, rivolgiamo un invito a frequentare la biblioteca. Esattamente, a tutte le fasce d'età. Più siamo, meglio è. Grazie mille. Grazie.